Soldi in cambio di aiuto per occupare abusivamente case popolari. Con questa accusa i carabinieri hanno arrestato ai domiciliari nove antagonisti di un centro sociale milanese. A chi occupava spiegavano come evitare gli ispettori dell'Aller, l'azienda regionale di edilizia pubblica. Regola numero uno, non farli mai entrare in casa. Ma sei il SEMO? Cosa c'è scritto sulla porta? No, non fanno niente. Tu ricordati che quelli sono quelli che ci sbattono fuori di casa. Hai capito? Perché li hai fatti entrare? Perché non hai chiamato il comitato? C'è scritto sulla porta. Sette italiani, un colombiano e un peruviano, alcuni studenti universitari, uno laureato in filosofia con il massimo dei voti, ufficialmente residente in pieno centro. Associazione per delinquere, finalizzata all'occupazione abusiva di immobili di proprietà pubblica e resistenza a pubblico ufficiale, i reati contestati. Nove gli alloggi occupati abusivamente e ora sequestrati dalla magistratura. Sigilli anche al centro sociale, base di solidarietà popolare, sempre in uno stabile.